Ma che bello spettacolo, veramente una bella visione, dopo tanto tempo, due o tre anni, qualche sarà, di pandemia, di inchiusa, vedersi così a condividere un evento del genere e quindi avere un contatto reale, carnale, è una cosa grandiosa. Specialmente, di chiusi in casa, abbiamo avuto modo di avere a che fare con se stessi, e se stessi è la cosa più brutta, a volte avere a che fare, ma richiusi in casa fisicamente, ma fuori di testa. Pensate che io sono stato talmente fuori, ma talmente fuori, che quando bussavo per rientrare, avevo paura di aprire, veramente. Quindi, grazie a questa iniziativa, a questa manifestazione, che possiamo rincontrarci e condividere insieme qualcosa. E quindi, la logica del puzzle, perlomeno a me mi sembra che sia, una delle poche, non è un'associazione, un movimento letterario che si vuol dare un contenuto artistico, almeno questo che è un angelo piano, e che fa delle attività culturali continuativi, una volta l'anno, due volte. Ora, in questa occasione, ospitata dal ciclo dei venti che fa noi e gli angeli, che conosciamo benissimo e che ringraziamo, ma comunque, anche loro fanno attività più propriamente basata sui personaggi e le situazioni quando fa teatro, organizza tante altre attività. c'è poi anche la banda, che fa attività continuativa, ma è incentrato sulla musica. e... vi permettete questa digressione da molto che volevo dire, ma la logica del puzzle invece rappresenta la parola. Proprio la parola rappresenta. E si potrebbe anche, a livello turistico-culturale, per Casoli, che è tra i porti più belli d'Italia, inconiare un brand turistico-culturale. A Casoli, il festival della parola, la logica è parla. Perché è proprio un festival della parola. La parola è in tutte le sue declinazioni. Parola parlata, parola scritta, parola letta, parola declamata, parola recitata, pensata. E' un bel modo per interagire. Ora noi stiamo interagendo, per esempio, no? Ma qualcuno può dire, ma che c'è difficile, c'è parla solo tu, parla solo tu, parla solo tu, come se ne... Come interagiamo? Interagire con me. La parola... Il pensiero. Il pensiero. Voi pensate alle nostre parole e pensate anche alle vostre parole. Spero, speriamo, che non siano tanto frutti nei nostri confronti. Scherzi a parte. Quindi la parola più igienia, prima che diventa sono, è pensata. Anche se noi non ci facciamo caso. Sembra che la parola abbia una autonomia propria. E' prima pensata. Quindi ringrazio, ringraziamo, diciamo, come l'occe che parla, le istituzioni comuni che ci permette di rappresentare ogni volta le nostre parole. E io presumo di far parte di chi vuole dare una struttura in versi poetici e di prosa alle parole. Magari facendo un contrapunto, sovrapponendo le melodie, chi sa di musica, lo sa bene, che cosa voglio dire, un contrapunto orizzontale piuttosto che verticale sulle armonie. E queste sono, diciamo, dei componimenti del mio ultimo raccolto di componimenti che vuole sovrapporre la lingua italiana, quindi in versi, e il dialetto, il dialetto gasolano. E anche insieme, versi e prosa. Grazie per l'edetto. Leggo qualcuno in lingua e un altro in dialetto. Lampi notturni. Un attimo, ve l'ho dimenticato l'occhiare. Ecco, sono qui, nella notte a guardare una luna velata, sopra un cielo fuscato, e mi domandolo, dove sono finiti, se davvero amuti, tutti i miei ideali, le passioni e le lotte per vaticare le difficoltà di una condizione che ognuno ha a suo modo sempre. Sono qui, appoggiato su un'esterna finestra, mentre fumo una sigaretta e guardo, e mi domando. Vedo anche un cane, anche egli volge urlo allo sguardo verso la luna. Forse anche si chiede se solo istinto non fosse. Ecco, è così, quando quel pensiero l'intubito rimane. Il vivere monario, il rimorso di un graffio a strade rimarginato, che solo nelle notti di luna velata un brivido rimanda, appoggiato alla finestra, mentre dentro in aro, un velo di calma. Non mi dispiacerebbe un sottofondo musicale, soft, dagli amici strumentisti, ma essi di musica, così come vieno, uno insieme, come in un velo di calma. Siete ispirati, all'interno di noi. Non mi dire che sta di tappo. Mi stiano in mezzo, però, ce la fai. A qui ci devo portare una cura oma. Ci devo portare l'acqua. Altro che s'ulti di fare, sulti di tazza assoluta, proprio. Deve metto la moraggia. Questa è per poco molto. Dimostrare sul bene, sempre nonna, esprimeva. Caccialo fuori se ce l'hai, caccialo amore, dimostra l'affetto. Ora capisco questa valenza. Spiettano controvento su corpi perfetti come soffi le parole. Le cene si posano come tervemore. Agusse e pensile a sguardo gravate, corrosive dense devono penetrare a rianimare i sensi. Questa è un'altra. Determinata. C'è un punto di stacco, un nodo cruciale, orientare il non ritorno, soddisfare il senso del pudore, plasmare il giusto e sbagliato, piegando nel verso dominante. Tra vigliacco e coraggio c'è un limite uguale, un opposto che si appraia, dove sfuma il paesaggio. Quando tutto ti dimostra che è fallita la missione, con dolore, stupore, con marcelato affanno, ti chiedono la correzione. Messe scombigliate, il vento non ha carezza. Chi ha il destino piegato con forza si ritrae, non sai più cosa fare. Spavaldo continuare o pavido cambiare. Chi mi ha abitato, la forma ha determinato. Ora qualcuno in dialetto. Luca la sceglie. Luca la sceglie, tencate che tieni chiedi, come catenecce che porta in serra, quelle che prima con un somme facile, molto cos'è sudore e fatica, ci ha trovato la spendata, a ogni masciata, gli appi che i appi. Socci a socci, la nervatura si ammolta, passate di sien della schiena, all'asciugatore senza riuscire. Quelle che scurreva la terra, come un fuso, consumate, coperte di nus, in troppe cartesciute alla persona. sbagliate di sceglie, a dauglia spesso le cangarit, sulle mie lucare latino, lucare la sceglie, lucare la sceglie, lucare la sceglie, chi è ne chiede. lucare la sceglie, lucare la sceglie, lucare la sceglie, la persona, è un mob, pieno di storie, è come non usare i gassi, sceglie, basta schiudere le gassite, arvucine e perone del rispetto, se non trovi niente, armetta a posto ogni oggetto, lascia ieri per la ricerca, nel dubbio siamo qua, chi le guarda e chi le vedete, dipende da chi l'ha, che anche tu ne trovi buoni, altra, niente d'amore, di rabbia e di passione, piede fino al mezzo, per cercare di sceglie, c'è una mia figlia. E l'ultimo, l'occhio, l'occhio alla coppia, diciamo di tornello, io d'estate mi goce l'occhio, mi goce dentro l'affezione, mi sembra la paparola, e ne metto il congelatore, così d'inverno, mi lascerò, vedi, che scherzi fa l'uomo, appena l'amore, ti dice che vuole, l'oro, l'oro. e l'alline, però, sta messa a vedere, non ne capite che successe, non si fa bene, lo stress, essa la regna, ci sta sempre, perciò, perciò, avveniremo, non so, stupare, e mo, che potemo arvederci, della voglia, la valura, da incontrarci, dove fai tutto a pensieri, con un complimento potente, che vince la differenza, potemo, che vince la scena, non è più lucente, che tende a mamma, e a me vede un po' stiente, chiuso in mezzo a una stanza, ognuno di stanza, ognuno splendente, nessuno è per roba, che ha cose per l'inverno, l'oro, everybody, a tutti quanti, grazie, buon appetito, grazie. Grazie.